Siamo con Mr. Benedetti nel post partita tra Foiano e Signa, terminato 1-1. Mr., forse meglio nel secondo tempo, ma anche un ottimo primo tempo. Sì, nel primo tempo qualche difficoltà l'abbiamo avuta, non abbiamo avuto un approccio adeguato al tipo di partita che dovevamo fare. Nonostante ciò, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto, comunque siamo stati bravi a rimediare una partita che si stava mettendo male. Poi il secondo tempo ci siamo sistemati e praticamente abbiamo sempre fatto la partita noi. Abbiamo creato molte occasioni, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Poi considerando l'andamento del primo tempo e quello del secondo, penso che alla fine il pari sia giusto. Pochi cambi perché vedeva la squadra che stava bene o per altri motivi? No, no, assolutamente. La squadra stava bene, aveva un suo equilibrio. Secondo me non c'era bisogno di cambiare più di tanto, pur essendo consapevole che comunque in panchina avevo dei giocatori pronti che se c'era bisogno in qualsiasi momento avrebbero fatto bene. Giocare senza pubblico dà sempre un effetto diverso, soprattutto qui a Foiano e la tifoseria ha sempre dato il suo apporto alla squadra. Com'è giocare senza i vostri tifosi? Beh, sicuramente un pochino ci penalizza, soprattutto qui dove comunque abbiamo un pubblico che si fa sentire, e quindi un po' ci ha penalizzato. È chiaro che senza pubblico per il calcio di Lettanti è un grosso problema, quindi vediamo, vediamo quello che ora nei prossimi giorni decideranno, poi ci adegueremo di conseguenza. Bene, allora ringraziamo Mr. Benedetti e gli facciamo l'in bocca al lupo per la prossima giornata. Crepe il lupo, grazie a voi. Grazie a tutti.